Sono giorni un po' particolari ma che stanno prendendo una piega davvero positiva. Dallo scenario iniziale che insomma un po' di voci avevano cercato di descrivere, la situazione si è definitivamente capovolta con un adulto, ultra sessantenne, che commette questi fatti e dei giovani impegnati e seri che non vogliono assolutamente accettare lo stigma comune che fa di tutelare un fascio per cui dei giovani qualche volta fanno danni e malanni e si impegnano per dare una mano e ripristinare velocemente il patrimonio di tutta la comunità. Insomma un messaggio davvero splendido. Siamo orgogliosi di questi ragazzi che hanno dimostrato con il loro impegno, con la loro presenza, che anche un fatto di sofferenza per tutta la comunità si possa poi risolvere in un messaggio di speranza ma soprattutto di fiducia. Come tutti i cittadini di Preganzola, anche noi ragazzi del gruppo giovani siamo rimasti colpiti dal vile atto vandalico che ha colpito una nostra coetanea e l'intera nostra comunità di cui ci sentiamo parte. Per questo motivo ci siamo armati di pennelli, vernice e senso civico per ripulire i muri della stazione dalle scritte che sono apparse nei giorni scorsi. E anche perché forse in una prima ora vi siete sentiti un po' chiamati in causa, come giovani, come categoria. Esatto, si tende inizialmente, quando accadono fatti come questo, sempre a colperizzare i giovani e questo non è vero perché insomma non è sempre così. C'è un problema sicuramente di disagio giovanile, però non è sempre così, non bisogna mai generalizzare e noi questa sera siamo qua anche per smentire questo luogo comune che c'è sempre sui giovani. Noi per primi abbiamo deciso di muoverci per venire a ridipingere il muro mostrando il nostro forte senso civico. Siete disposti anche a fare altre iniziative di questo tipo? Sì, siamo disposti a fare anche altre iniziative di questo tipo e dai prossimi mesi inizieremo a ripulire la città da eventuali rifiuti e soprattutto da eventuali scritte presenti andandole a ridipingere. Ecco, quindi ti senti di rivolgere un appello anche ai tuoi coetanei perché si facciano avanti, insomma, più siamo e meglio è. Sì, più siamo e meglio è, perciò per i cittadini di Preganziolle, chiunque vuoia, vi aspettiamo al nostro gruppo giovani. Grazie. Grazie. Grazie.